Per motivi tecnici, non andrà in onda. Al suo posto, una poesia su Londini. A volte rifletto, dopo le molte puntate guardate dal letto, se siano buttate, travaglio che dice ho perso, la smetto, se siano puntate verso, un bersaglio più grosso, la conquista dell'universo. Ci pensi? Ha senso. Sanremo è solo la prima tappa, poi saremo assieme solo una razza sotto lo stemma della pezza e che nessuno ne viva senza e o s'apprezza? O si mozza una testa, non so se si può dire... Lundini, duce o non duce? Beh, duce. Che referendum consultativo induce? Quali? Ti fa impressione la visione delle ossa animali? Se qualcuno sa come rimare il referendum consultativo, mi contate al più presto. I fazzanicchi, la squadra ministri, solo che quelli, forse tranne per il batterista, si sono visti per così poco che non so che battuta fargli, non so il loro gioco, ma non siate tristi, è così anche per i veri ministri. Il tenente Carlo Sivestri è stato ministra, memista di Stato per molti anni, ma tra gli acciacchi e gli affanni, tanto che ormai camminava storto, non più nella RAI, purtroppo è in pensione. Il parente è misterioso, lo zio è... Boh, chi lo sa, forse è rimasto, però no, non credo, forse sì, ma magari no. Anna Pazienza, senza la quale non si può star senza, non più alla RAI, al piano di sopra, governa su tutto col favore dell'ombra. Torpedine, singolare femminile, pesce marino dai fondali sabbiosi, è caratterizzato da corpo appetito, a disco, bocca ventrale, è dotato di organi capaci di emettere forti scariche elettriche. È anche il nome di un missile militare o qualcosa del genere, credo... Boh... E a tutta questa felice combriccola che ancora si riunisce per giocare a briscola, voglio dire solo che dovreste fare una seconda stagione, perché cioè troppo fico, bro, ci starebbe tantissimo, ditemi voi. Ah, e grazie di averci fatto divertire in un periodo in cui ne avevamo così tanto bisogno. Grazie.